Rieccoci su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia. Oggi l'Italia e la Sicilia ricordano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte nella trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. A Palermo sono previste tante iniziative, ci sono anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, Maria Falcone e numerosi esponenti del Governo, i Ministri dell'Istruzione, Patrizio Bianchi dell'Interno, Luciana Lamorgese della Giustizia, Marta Cartabia dell'Università, Maria Cristina Messa degli Esteri, Luigi Di Maio. Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro Paese, è un giorno che segna per l'Italia un cambio di passo e di rotta, è un giorno di sofferenza collettiva e personale. Credo che le vite di ognuno di noi quel giorno siano un po' cambiate, lo ha dichiarato il Presidente della Camera Roberto Fico. Intanto l'Anci Sicilia, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, invita i sindaci siciliani a ritrovarsi virtualmente insieme alle 17.57 di oggi per un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note del silenzio, indossando la fascia tricolore, simbolo dell'unità nazionale e dei valori costituzionali. Collaborate, fateci conoscere la verità. Un nuovo appello anche agli uomini dello Stato che hanno tradito viene lanciato a trent'anni di distanza dalla strage di Capaci da Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, che ai funerali disse ai mafiosi, io vi perdono, però dovete mettervi in ginocchio. In un'intervista al giornale Radio Rai afferma, direi, di comportarsi degnamente anche alle forze dell'ordine che indossano la divisa, di non sporcarla come hanno fatto in passato quelli che hanno tradito. E dunque, come detto, oggi la Sicilia, ma in tutta l'Italia intera, ricordano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. E anche noi, ovviamente, ci uniamo a questo ricordo e certamente nel corso della giornata e delle varie edizioni di Spazio Notizia torneremo sulle tante iniziative in programma oggi a Palermo e non solo. Cambiamo adesso argomento, parliamo di una notizia che riguarda il volo Lampedusa-Palermo. E' partito con mezz'ora di ritardo e fin qui niente di strano, insomma, è un po' la normalità, ma c'è una motivazione particolare. Il velivolo, che doveva partire, come detto, da Lampedusa alle 6.10 per Palermo, è rimasto in pista con i passeggeri a bordo. Perché, pensate un po', alla torre di controllo dell'aeroporto non vi sarebbe stato nessuno. Il comandante dell'aereo ha chiesto scusa a tutti i passeggeri esclamando in 42 anni di volo mai successo nulla di simile. Ebbene, pure stavolta è successo. La torre di controllo, a quanto pare, era deserta e dunque l'aereo è partito con mezz'ora di ritardo. Succede anche questo dalle nostre parti, in questo caso nel volo Lampedusa-Palermo. Adesso parliamo di cronaca, o meglio di mafia. Chiedevano il pizzo a un imprenditore e un condannato per omicidio che si trovava in carcere. Dava precise indicazioni ai figli e alla moglie che ovviamente eseguivano l'estorsione. I carabinieri di Paterno hanno arrestato tutta la famiglia. Vediamo i servizi. Su delega della Procura Distrittuale di Catania, i carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia nei confronti di quattro soggetti gravemente indiziati del reato di concorso in estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. L'indagine coordinata dalla Direzione Distrittuale Antimafia Etnea e condotta dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Paterno da febbraio a maggio di quest'anno ha consentito di riscontrare anche con attività tecnica seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio tra le parti una estorsione aggravata condotta mediante minacce derivanti dall'appartenenza al clan mafioso di Giovanni Lapisarda inteso Sanzuneddu, pregiudicato appartenente alla famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano e detenuto all'ergastolo per un omicidio di un noto imprenditore catanese commesso nel 1993 che sarebbe stata operata attraverso i suoi figli Giuseppe con precedenti per droga e Valerio nonché sua moglie Santa Carmela Corso Giovanni Lapisarda sebbene detenuto avrebbe impartito le disposizioni dal carcere attraverso i colloqui con i suoi familiari o lettere dal tono intimidatorio indirizzate alla vittima gestore di una ditta di bel passo operante nel settore dell'estrazione e lavorazione di Pietralavica al quale veniva richiesta sin dal 2012 una cifra complessiva di 1.700.000 euro Le indagini prendevano le mosse dai numerosi servizi di osservazione svolte dai carabinieri i quali notavano diverse frequenti visite dei fratelli Lapisarda nella sede della ditta La successiva attività investigativa svolta anche attraverso l'installazione di telecamere all'interno dell'azienda permetteva di ritenere che l'ergastolano, sebbene decluso, richiedesse attraverso i figli e la moglie il versamento di ingenti somme di denaro sin dall'anno 2012 da effettuarsi mediante pagamenti in contanti, assegni cambiali e acquisto di mezzi d'opera, nello specifico l'acquisto di un escavatore La vittima, a seguito dell'acquisizione di un ramo dell'azienda già di proprietà di altri componenti della famiglia Lapisarda, pur avendo già consegnato 700.000 euro negli ultimi dieci anni per crediti illecitamente vantati di un milione di euro, riceveva un'ulteriore richiesta estorsiva di 700.000 euro, dilazionati in cinque anni, attraverso il pagamento di una somma tra i 1.500 e i 3.000 euro settimanali o in alternativa alla cessione della ditta I carabinieri di Paternò, per impedire che il reato si potesse portare a conseguenze ulteriori traevano dunque in arresto in flagranza di reato nei giorni scorsi Giuseppe Lapisarda e la madre Santa Corso, i quali, dopo essersi recati presso la sede della ditta di Belpasso avevano ricevuto dalla vittima una busta contenente 2.000 euro, quale rata della richiesta estorsiva Nel corso di uno degli ultimi incontri Giuseppe Lapisarda avrebbe palesato esplicitamente la richiesta specificando che quei soldi gli erano dovuti Gli arrestati sono tuttora associati presso le case circondariali di Grosseto e Catania Bicocca Di questa importante operazione ha parlato il capitano Gian Mauro Cipolletta comandante della compagnia carabinieri di Paternò, sentiamo le sue parole Su delega della procura distrettuale, i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di quattro soggetti gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catania e condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò da febbraio a maggio di quest'anno ha consentito di accertare una estorsione aggravata mediante intimidazioni e minacce derivanti dall'appartenenza al clan mafioso di Lapisarda Giovanni esponente della famiglia Santa Paola del Corano di Catania attualmente detenuto all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1993 di un noto imprenditore catenese il Lapisarda, sebbene detenuto durante i colloqui impartiva disposizioni ai suoi familiari, in particolare alla moglie e ai figli redigendo egli stesso in un'occasione una lettera dai toni intimidatori indirizzata alla vittima alla quale è stata richiesta nel corso degli anni in particolare dal 2012 ad oggi la cifra complessiva di 1 milione e 700 mila euro Ed ora parliamo delle irregolarità sui posti di lavoro, cantieri, edili e non solo vediamo il bilancio delle ispezioni effettuate dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania Nell'anno in corso i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania nell'ambito delle attività tese al contrasto dei vari aspetti di irregolarità e alla verifica del rispetto della normativa in materia di legislazione sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro hanno effettuato ispezioni contro il lavoro nero e per la repressione dei fenomeni di sfruttamento dei lavoratori procedendo al controllo di 69 ditte, 58 delle quali sono risultati irregolari 337 lavoratori, 43 dei quali svolgevano l'attività in nero mentre altri 70 sono risultati irregolari I settori lavorativi maggiormente carenti sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro risultano quelli delle edilizie, dei centri socioassistenziali e delle imprese agricole all'esito delle verifiche sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 58 datori di lavoro dei quali 47 per violazioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro 2 per sfruttamento di lavoratori extracomunitari 2 per estorsione per un importo di 9.750 euro 3 per omissione delle ritenute previdenziali per un importo di poco meno di 320.000 euro 2 per lesioni colpose a seguito di infortuni sul lavoro 2 per controllo a distanza illegale dei lavoratori dipendenti mediante impianto di videosorveglianza inoltre in collaborazione ai comandi territoriali dell'arma sono stati effettuati controlli su iniziativa della Prefettura di Catania per verifiche su percettori del reddito di cittadinanza che hanno portato al deferimento di 7 soggetti per indebita percezione del beneficio anticaporalato nello specifico settore dell'agricoltura e della logistica che hanno portato all'arresto di un datore di lavoro per sfruttamento di lavoratori complessivamente sono state elevate 102 ammende per un valore di 171.000 euro sospese 16 attività imprenditoriali per gravi irregolarità combinate sanzioni amministrative per 329.000 euro e recuperati contributi previdenziali ed assistenziali per 600.000 euro ed ora ci spostiamo virtualmente ad Agrigento due ordigni bellici risalenti verosimilmente alla seconda guerra mondiale sono stati ritrovati all'interno del parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento i due ordigni erano a circa 150 metri di distanza dal tempio di Giunone a fare la scoperta sono stati gli operai di una ditta di vivai che si stava occupando dei lavori di manutenzione dei terreni e del verde pubblico della valle i carabinieri si sono occupati della delimitazione dell'area per segnalarne l'eventuale rischio o pericolo e per impedirne l'accesso sono stati anche avvisati gli artificieri che si dovranno ovviamente occupare della rimozione e torniamo invece a parlare dell'Etna perché ci sono nuovi sviluppi su quest'ultima fase eruttiva molto intensa da parte del vulcano un graduale aumento dell'attività esplosiva al cratere di sud-est che produce una cospicua emissione di cenere in direzione sud e che raggiunge la quota di circa 5.000 metri sul livello del mare è stata osservata ieri sera dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'Osservatorio Etneo di Catania è stato emesso un avviso per l'aviazione di colore rosso il massimo livello di allerta ma non ha impattato sull'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania prosegue intanto con intensità variabile l'emissione lavica alle bocche effusive formatesi il 12 e 20 maggio scorsi i fronti lavici più avanzati si attestano a una quota compresa tra 2.800 metri e 2.700 metri nella desertica Valle del Leone quindi prosegue come abbiamo appunto visto questa intensa fase eruttiva dell'Etna che è piuttosto prolungata dura ormai da diversi giorni è piovuta anche della cenere la cosiddetta pioggia nera su alcune città etnei nei giorni scorsi causando certamente qualche disagio ma la situazione attualmente è sotto controllo perlomeno così ci dicono gli esperti che hanno comunque alzato il livello la soglia di attenzione e monitoraggio dell'Etna e adesso una notizia da Porto Empedocle si tratta di una denuncia effettuata da Mare Amico le scelte dissennate di un sistema fognario approssimativo hanno condannato le spiagge di Porto Empedocle a un lento declino oggi rileviamo e documentiamo almeno sette scarichi di acque di dubbia provenienza in spiaggia che hanno trasformato il litorale in un vero disastro come detto lo scrive in una nota l'associazione ambientalista Mare Amico a tutto ciò si aggiunge prosegue la nota il tentativo di nascondere questa tragica realtà hanno arato le spiagge come se fosse un campo di patate e hanno tentato di coprire gli scarichi che in alcuni casi sono fognari questa quindi la denuncia da parte dell'associazione ambientalista Mare Amico per quanto riguarda le spiagge di Porto Empedocle non ci sono aggiornamenti dunque possiamo fermarci qui ma ovviamente ci ritroviamo più tardi sempre su Sicilia 24 con una nuova edizione di Spazio Notizie di Spazio Notizie di Spazio Notizie